Mi pare che ci sia tutto, eppure ho come il tarlo di aver dimenticato qualcosa. E questo? Non vorrei mica svenire sul sentiero... Non lo ho fatto più. Buongiorno dai Due in Cammin and Kayak, per oggi si parlerà di cammini, è arrivato finalmente quel momento dell'anno in cui si parte per il cammino lungo, in questo caso sarà il cammino primitivo che ci porterà da Oviedo fino a Santiago di Compostela, e quindi oggi vi faccio vedere cosa porto nello zaino. Allora, sarà l'età che avanza, sarà la sfortuna, ma sono stato a posto tutto l'anno e una settimana dalla partenza mi è entrato un dolorino fisso nella parte interna del ginocchio destro, per cui mi porterò la ginocchiera, e questa è molto leggera, però è utile sul cammino. Allora, calze, tre paia di calze, uno lo indosserò e due saranno allo zaino, queste sono calze anti sfregamento, due medie e una corta, sono molto utili per prevenire le vesciche. Allora, tre paio di pantaloni, due corti, questi sono molto basic, questi invece sono pieni di tasche e hanno anche la cintura incorporata, è utile se perdete tanto peso davanti al cammino, per cui verso la fine tirate la cinghia e se no perdete i pantaloni. E poi l'ultimo paio sono pantaloni lunghi, ma di quelli accorciabili, per cui a due terzi di gamba c'è la cerniera e posso accorciarli. Questi si possono usare in giornate magari un po' più fresche, perché comunque sarebbero in montagna. Cammino più fresco del solito, nonostante sia ad agosto, perché in quella zona la temperatura oscite tra i 24 e i 26 gradi, quindi niente a che vedere con i 40 della postumia o sulla via Ghebellina. Per cui la mattina presto o la sera magari il pantalone lungo sarà molto utile. Il mio fido cappello da Pellegrino, che dal 2017 mi accompagna in tutti i miei cammini, ma io ho fatto più di 5.000 km questo cappello, è in forma perché ci ho messo la carta. Una giacchina un po' più pesante che faccia anche da antivento, questa ha anche la cernina così posso tenerla aperta, quando comincia a far caldo non devo toglierla subito, posso usare vari step. Pile, soprattutto perché se uscire una brutta giornata a nuvola, col vento e magari anche con la pioggia, la montagna farà freschino e si vede il pile. Magliette, sono tutte magliette tecniche, per cui leggere, traspirantissime e asciugano molto in fretta, queste hanno anche tutta la schiena traforata, per cui sono molto traspiranti. Come al solito, una la farò indosso e due saranno nello zaino. Il telo da bagno in microfibra, il sacco lenzuolo, perché abbiamo promotato tutti gli alberghi privati, dove danno di solito il coprimento terasso e la fedele del cuscino in tessuto o in tessuto, quali uso di getta, per cui almeno il sacco lenzuolo sarà necessario. Pare che ci siano le coperte, per cui si potrebbe fare meno del sacco a pelo, speriamo. Speriamo che non sia un azzardo. Poi sono box di microfibra, come al solito due nello zaino e uno indossato. fazzoletti, io uso quelli di stoffa. Il pigiama, quest'anno provo un pigiama corto, sperando che anche questa sia una scelta che paghi. La mia mantella da pioggia, questa copre sia me che lo zaino, è molto comodo perché ha anche le tasche, si può accedere allo strato sottostante senza bisogno di togliersela. Quest'anno invece che stanno dagli tecnici, porto anch'io le infradito, soprattutto per usare in doccia e in alberghe e soprattutto quando siamo una volta finito la tappa, se vogliamo magari girare per la città senza portarci dietro lo zaino, questo è un micro zaino a 10 litri, praticamente è ultra pieghevole, pesa 80 grammi ed è utile, perché magari le cose sono un po' di valore per non lasciarle nella camerata, insomma. Poi ho la custodia degli occhiari con le lenti da sole. Questo è il copri zaino del mio zaino, lo userò più che per la pioggia, dato che ho già la mantella, è per il trasporto, perché quest'anno lo zaino lo faccio imbarcare per poter portare anche le bacchette. Ho preso queste bacchette, sono quelle più basic di Decathlon, in realtà le bacchette ne ho già una decina, però queste le ho prese perché sono le più corte in assoluto e ci stanno nel mio zaino, altrimenti avrei dovuto acquistare quelle pieghevole in tre parti, però oltre a costare di più, la mia Decathlon non era disponibile, avrei dovuto ordinarle e non avevo voglia di aspettare. Una spina con quattro ingressi USB, se si collegano solo due device fa la ricarica veloce, dal terzo device in poi la ricarica diventa tutta normale. È utile perché ci sono tanti device da caricare e poche spine per non litigare con gli altri pellegrini. Le borracce. Ne porterò due, sono entrambi da 750 ml. Questa è di alluminio, però non è termica ed è leggerissima, pesa circa 90 grammi. Questa invece è una borraccia termica. Stessa capienza di questa, vedete, diversità di dimensioni, è però pesa 240 grammi, per cui nella prima fase della giornata berrò da questa perché l'acqua sarà ancora relativamente fresca e poi nei momenti più caldi utilizzerò questa con l'acqua magari fresca. Se in alberghi c'è un frigorifero, travaserò l'acqua fredda in questo la mattina prima di partire. La pila frontale, come al solito, non perché abbiamo intenzione di camminare col buio, anzi quest'anno probabilmente potremmo partire un pochino più tardi rispetto al solito perché comunque siamo in una zona più fresca, ma è più che altro se devo alzarmi di notte per andare in bagno, insomma per uno si può, in un alberghe con una camerata condivisa, accendere la luce. Sì, potreste farlo, però gli altri pellegrini non la prenderebbero tanto bene, va avverto. Le caramelle, le caramelle sono utili per tenere alto il livello dei zuccheri perché noi di solito facciamo colazione, poi a pranzo cerchiamo di stare leggeri per non essere intrecciati nel cammino dalla digestione, per cui frutta, magari un pezzettino di focaccia e poi la sera ci rifacciamo con gli interessi. Per cui le caramelle durante la giornata per tenere più o meno costante o alto il livello dei zuccheri per avere cari di pressione. Poi ho la custodia della Osmo dove ci sarà la caratteria varia, la Osmo, le batterie di ricambio, una power bank da 10.000 mAh per effettuare le riprese. Poi ho il solito Ulanzi GP16 accessorio che serve per mettermi al collo la Osmo Action e poi io considero delle borse di questo tipo che non fanno molto rumore quando vengono aperte perché soprattutto scordatevi di usare queste, queste sono molto pratiche, quando avete finito di usarle potete buttare via, però sono molto croccanti, per cui se la mattina vi mettete a ravanare nello zaino quando gli altri ancora dormono, anche lì non vi farete amici gli altri pellegrini. Poi pare che c'è questa figura mitica del pellegrino coreano che si alza alle 4 di mattina perché partono presto, perché vogliono arrivare prestissimo, vogliono essere di prima arrivare e però passano la ventina di minuti prima di partire a ravanare nello zaino facendo tutti i rumori possibili e immaginabili, infatti la gente non è proprio così contenta di incontrarli sul proprio cammino. I nostri due coltellini, questo è il normale coltello a serramanico per sbucciare la frutta, per tagliare i panini e questo invece è il coltellino multiuso, multiuso ma noi di solito usiamo la cavatappi, in effetti potremmo portare direttamente un cavatappi, ci conoscete, sapete che abbiamo questo vizietto. Quest'anno niente selfie stick ma porterò questo accessorio della GoPro che va bene anche per l'osmo e lo potrò montare sulla bacchetta e potrò usare la bacchetta come fosse un selfie stick, così limitiamo il peso perché bisogna cercare di limitare il peso più possibile. Poi questa è la nostra nuova borsa necessaire dove metteremo oltre al sapone, shampoo, pol, shampoo solido usiamo, dentifricio, spazzolini, forbicine, questo è il sapone con il sapone di Marsiglia, metteremo anche la nostra farmacia, per esempio questa è la nostra vecchia bustina della farmacia, inseriremo qua dentro perché è molto pratica, ci sono tante tasche, io porterò anche un paio di rasoi usa e getta in modo che man mano che li usa e smettono di tagliare e li posso buttare via e diminuiscono l'ingombro e il peso. Oltre alle solite cerotti, garze, disinfettanti in bustina abbiamo anche la nostra acqua ossigenata e poi comunque porteremo anche degli adidolipici sia orali sia in crema da sommare che sia voltareni, di fastungela oppure dell'arnica, mentre colorare potrebbe essere il momendolo o altri antideorifici di questo tipo. E non dimentichiamo anche la crema antifrizione che in accoppiata con le calze finora ci ha consentito su tutti i nostri cammini di non soffrire di vesciche, voi prima vi date una spalmatina di questa, sui piedi mettete la calza e con una scarpa ben rodata, a proposito delle calze ben rodate. Queste sono le mie MRL MOV 2GTX e le ho già usate l'anno scorso sul nostro lungo cammino estivo, via degli Dei, via Ghibellina, cammino di San Francesco, trovate il link magari qui sotto in descrizione, poi le usate anche per il cammino di San Jacopo, il cammino di San Carlo Magno, diciamo che hanno circa 650 km o qualcosa di più sul gruppone, per cui questo cammino che è di oltre 320 km sarà il loro ultimo cammino lungo, magari poi a seconda di come torneranno a casa, le userò magari per le uscite di un giorno poco impegnative magari, la suola è ancora in ottimo stato, vedete che ha ancora i tasselli per cui non dovrebbe essere scivoloso, dicevo con la crema di frizione, la calza e una scarpa rodata noi finora non abbiamo mai avuto problemi di vesciche, speriamo di non guffarci, non sia questo proprio il primo anno. Il mio zaino, anche quest'anno sarà questo da 50 litri da Decathlon, che pesa circa 1,6 kg, non è leggerissimo però non è neanche pesantissimo, ma è molto comodo perché potete metterci tante cose, io lo riempirò per circa due terzi, forse anche di meno, però se dovete fare la spesa e mettere roba da portare prima a portare in alberghe è utile, perché non sempre dove arrivate magari c'è il negozio, la mitica tienda, magari è il paese prima per cui dovete fare la spesa prima. Ci sono cose che non avete visto che di solito portavamo, non porteremo l'alcordino con le mollette perché in praticamente tutti gli alberghi che abbiamo prenotato, ho visto sul sito, c'è la lavasciuga, allora quest'anno magari ci concediamo questo lusso, visto che comunque ci sarà anche tanta gente sul cammino, qualcuno con cui dividere la lavasciuga di sicuro lo troviamo, per cui non useremo queste mollette e il cordino. Non vedete neanche le barrette energetiche a frutta secca, però non le porteremo, però non le vedrete perché a queste ci pensa la Giulia, è lei quella degli snecchini, della frutta secca, come ben sapete, lei ha questa passione. Non vedete qui, indovinate, la credenziale, non la vedete perché la prenderemo a Oviedo il primo giorno perché nell'alberghe dove staremo vende anche la credenziale, costa circa 3 euro. Una raccomandazione, dovete usare solo credenziali riconosciute dall'officina del Camino de Santiago perché ultimamente sono le uniche credenziali che vengono riconosciute per il rilascio della compostera. Se a voi la compostera non interessa nulla, però mi sembra strano, potete farla con qualsiasi credenziale fornita da qualsiasi gruppo. Se invece volete essere sicuri di non avere intoppi per ricevere la compostera, assicuratevi che la vostra credenziale sia una di quelle riconosciute dall'officina del Camino de Santiago. E non vedete qua neanche la guida perché noi abbiamo fatto tutti i nostri appunti, li abbiamo in formato elettronico e ci siamo spediti sul nostro cellulare, sempre per limitare il più possibile il peso. E quindi parlando di peso andiamo a pesare tutto. Ok, pesato tutto e con le bacchette in mano è come se ci avessero lo zaino, sono 7,7 kg a cui va aggiunto poi il peso dell'acqua, per cui un altro 1,4 kg. 7,7 kg, 9,1 kg. E che in realtà potrebbe sembrare tanto, ma in realtà è uno dei zaini più leggeri con cui sono partito per un cammino. E senza le bacchette, poi le bacchette le terrò in mano quando le userò, perché non saranno più a pesare lo zaino, sono 4 etti in meno. Ah, dimenticavo, tra le cose che porteremo e che mi sono indicato di farvi vedere, c'è questo, lo riconoscete? È il nastro kinesiologico, se avete già visto il nostro video, magari quella di San Francesco, che avete visto sulle ginocchia, sui polpacci, questo è molto utile per le contratture per i dolori. Se avete un amico preparatore atletico o personal trainer, magari chiedete a lui come si usa, vi farà vedere meglio. Però altrimenti è pieno di tutorial su YouTube, è molto semplice da usare e ci sono vari modi di applicarlo a seconda della zona e a seconda del tipo di dolore. Niente, c'è sempre qualcosa che dimenticate, che vi ricordate l'ultimo momento da aggiungere. Però in questo caso direi che la maggior parte delle cose sono coperte. Ecco, non portiamo neanche la crema solare, perché come potete vedere, grazie al kayak, sono già belli coloriti, per cui non dovrebbero avere proposti problemi in questo caso. Magari ne portiamo giusto una mini taglia per i primi giorni, per vedere di essere un po' coperti. Per cui da domani, o dopo domani non so quando metteremo questo video, ci saranno post tutti i giorni sulla community in cui descriveremo la tappa che abbiamo appena affrontato, i punti salienti, cosa abbiamo incontrato, se c'è stato qualcosa di particolare sia nel bene che nel male. E poi cercheremo di fare anche tutti i giorni, se possibile, un video short corto che faccia riassunto la tappa, oppure che dia magari un highlight della tappa se è successo qualcosa di particolarmente divertente o hilare magari in alberghe. Poi con calma quando saremo tornati faremo i video normali della solita lunghezza. Speriamo che questa avventura appassioni anche voi, seguiteci, iscrivetevi al canale se volete, soprattutto lasciateci del like, fatevi commenti, fatevi domande e noi appena possibile risponderemo. Buon cammino!